Salve, sono Stefano Dell'Amico, presidente della commissione numero 3 politiche per il marmo e sport. Il 31 agosto si è tenuta la prima commissione e l'argomento che abbiamo deciso di trattare è appunto la sport, per evidenziare che tale tema avrà la giusta considerazione nonostante l'abbinamento al marmo con un peso specifico molto probabilmente maggiore. Alla seduta era presente il dirigente dell'ufficio sport, il dottor Bessi. Gli abbiamo chiesto informazioni sulle modalità di accesso e gestione dei bandi e sulle difficoltà che gli uffici incontrano in queste pratiche, rilevando che sarebbe necessario creare una banca progetti e prevedere in bilancio una spesa dedicata al settore. Abbiamo chiesto che si compili una scheda tecnica informativa e organica per ogni impianto sportivo comunale. Sono necessarie perché dovremmo iniziare i sopralluoghi con il personale degli uffici tecnici e gli altri componenti di commissione per verificarne le condizioni e interventi necessari da fare. Come ultima cosa dopo l'approvazione in consiglio comunale della carta etica dello sport abbiamo presentato l'intervento alla pagina web del sito comunale con l'inserimento del logo e la successiva creazione in una sezione dedicata in cui verranno inserite tutte le società e associazioni che aderiranno a tale documento.